Ci troviamo in un caos e ci troviamo di fronte ad un rebus che è molto difficile risolverlo e se non lo prendiamo con grande impegno qui ci vorranno ancora cento anni. Caos è forse la parola che descrive meglio la situazione in cui versa lo Schiapparo, ossia il villaggio sorto sull'istmo che separa il lago di Lesina dal mare Adriatico e che interessa il territorio che va da Torre Mileto al canale appunto dello Schiapparo. Cominciamo subito da una delle dichiarazioni raccolte nell'intervista a una rappresentanza di coloro che hanno una casa nella zona. La situazione è anomala, è anomala perché? È anomala perché praticamente qui da tantissimi anni questo territorio viene condeso da Comune di Lesina che ne accamba i diritti di gestione, di proprietà che si voglia e il Comune di San Nicandro Garganico. È un'eterna lotta. Noi abbiamo presentato una proposta di appartenere a San Nicandro. Perché? Perché San Nicandro ha tanti motivi per poter ottenere questa zona, amministrarla, migliorarla e cercare di renderla legalizzata con tutti i servizi. Lesina è un comune che fino ad ora ha dimostrato soltanto di volere soldi. Non ha mai cercato di interessarsi di questa zona. Quindi io faccio anche un appello a San Nicandro che San Nicandro può prendere tutte le decisioni perché questo territorio è contesa ancora. Non si sa di chi è ancora e non si saprà mai. Ma San Nicandro non si decide appena di intervenire o di fare un ostacolo da parte di Lesina a fare quel che vuole. E San Nicandro ci fa i fatti suoi, non fa niente. Noi vorremmo che l'Ende preposto, in questo caso Lesina, perché per noi o Lesina o San Nicandro è la stessa cosa. Noi vogliamo regolarizzarci, noi vogliamo pagare le tasse, vogliamo pagare l'Imo, vogliamo pagare le Montese, vogliamo pagare tutto che la maggior parte fa, però vorremmo essere trattati da persone civili. Il primo problema. A tal proposito si è in attesa del giudizio che verrà emanato il 5 ottobre prossimo dal commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari, che sancirà a quale dei due comuni spetta l'amministrazione di questo territorio e soprattutto se è da considerarsi demanio pubblico o proprietà privata. E chi è che ce ne va di mezzo sono tutti quanti i villeggianti, i proprietari delle case, perché qui non sappiamo se è demanio secondo molti, o i proprietari o pseudo proprietari secondo il comune di Lesina, perché il comune di Lesina riconosce anche il titolo di proprietà a queste persone. Quindi noi vorremmo uscirne fuori, vorremmo che la situazione venisse sanata. Sì, perché la seconda questione in campo è che ci sono delle società immobiliari che vantano la proprietà su questi terreni. C'è tutta una serie di altri enti che vogliono vantare il diritto di proprietà e non hanno mai dimostrato con un documento valido di essere proprietari. Queste società dicono che hanno i titoli, che hanno i documenti, documenti che noi non ne abbiamo mai, non ci hanno mai mostrato. Perché non sono stati mai chiari, perché uno che è proprietario, e viene qui, guarda questo è mio, mi metto nei manifesti, mi chiamo. Questi non sono stati mai chiari, hanno sempre i vasi. Quando oltre abbiamo chiesto anche delle informazioni a Lesina, non è stata mai avuta una risposta giusta. Per cui, e siamo giunti al terzo enigma, sta di fatto che i proprietari delle case sono in realtà pseudoproprietari, in quanto non hanno stipulato degli atti notarili di acquisto, ma atti di transazione, tanto da essere considerati abusivi. Ma voi che siete proprietari che avete acquistato queste case, avete l'atto notarile? Allora, l'atto notarile qui non esiste. Fanno solo l'atto di transazione, che è diverso dal roggito. Quindi è una presa per i fondelli. Allora abbiamo costruito, abbiamo costruito, non lo so, abbiamo sbagliato. In quanti posti dell'Italia hanno costruito e hanno sbagliato? Tutto è stato sanato, qui non si può sanare. Il bello è che per decenni si è continuato a costruire senza che qualcuno intervenisse per bloccare il moltiplicarsi delle case. Che non abbiamo costruito, ci hanno fatto costruire, non hanno visto, non hanno guardato, non avevano gli occhi. Si è trattato di gente non vedente. Noi siamo abusivi, però lo Stato ci ha permesso di presentare una domanda di condono in sanatoria, cosa che in buona parte, un buon numero, circa 1.500 su 2.800, abbiamo messo in pratica questa legge dello Stato. Abbiamo anche versato gli oneri dovuti per legge, altrimenti non potevamo presentare la domanda. Ecco, ci sono le ricevute, ci sono le attestazioni, ma questo non è servito a niente. Tanto che il rischio di abbattimento è sempre sopra il collo. Abbiamo poi cercato anche di accatastare questi manufatti, immobili, case, costruzioni, come le vogliamo chiamare e abbiamo, di nostra iniziativa, pagato l'ICI precedentemente e poi con l'entrata in vigore della legge sull'IMU dal 2012 abbiamo iniziato a pagare l'IMU. E questi soldi versati al comune di Lesina non ci hanno portato nessun vantaggio. Io non riesco a capire. Lesina si lamenta perché c'è gente che paga e gente che non paga. Però c'è una cosa. Lui però l'IMU se lo prende. Allora a un certo punto, come dice il signore, dice che debbano abbattere delle case. Su che cosa? Perché lui riconosce le società. Allora tu mi prendi l'IMU a me, riconosci che le società sono... E poi dici che debbano abbattere delle case. Qui c'è qualcosa che non va. Alta spinosa questione e stiamo a quattro. Tasse e tributi sono pagati per ottenere servizi, ma questi non se ne vedono. La spazzatura qui è un degrado proprio. Perché io mi ricordo agli inizi, agli inizi eravamo noi a prendere la spazzatura e portarla a San Nicandro. Adesso da quando è Lesina che se ne occupa, quindi guardate un po' a dove siamo arrivati. Ha voluto il contone. Adesso ci hanno messo anche per la luce e la strada abbiamo pagato. Allora la fine dei conti. Che si decidesse o dentro o fuori. Ma se no ci gestiamo o no ci gestiamo. Facciamo una bella domandina. Se no, se non si prende probabilmente andiamo all'Europa. L'unica cosa, come fanno tanti. Io vorrei dire a Lesina, no? Che se ha la mente che non pagano la spazzatura, ma non la portano neanche via. Noi, 20 giorni che veniamo all'anno, 300 euro di spazzatura che paghiamo. Ma dove vanno questi soldi? I soldi del condone, i soldi dell'Igip. E per avere una strada. Sta strada qua l'abbiamo fatta noi. E per avere una strada. Lesina non ha fatto niente. Allora i soldi del condone, i soldi della spazzatura che noi veniamo qua 20 giorni. Ma dove vanno? Che poi noi paghiamo più qua la spazzatura che ha 12 mesi a Milano. Ma è giusto questo? Io vorrei dire a Lesina questi. No, io ho tre figli a Milano. Preferiscono stare a Milano che venire qua nei topi. Dopo c'è anche sulla spiaggia che dovrebbe andare a pulire. Non c'è bisogno noi, che c'è uno schifo. Non tutti pagano però le tasse comunali. La risposta da parte dei nostri interlocutori è stata. Non è compito nostro segnalare chi paga, chi non paga, chi fa il suo dovere, chi non fa il suo dovere. Noi non siamo un'autorità. Noi siamo cittadini che abbiamo avuto l'autorizzazione con una semplice parola di poter costruire, di poter mettere su pietra su pietra o tuffo più tuffo e avere queste case. Queste case che da 50 anni stanno fra l'abbattimento e la legalizzazione. Noi ci sentiamo proprietari di queste case perché le case stanno su un terreno che è stato occupato nel 1800 dai sannicandresi. Ma se per risolvere tutte le questioni elencate si può ricorrere da parte del comune al censimento delle case e dei loro presunti proprietari, perché dopo tanti anni ancora non lo si attua, sentiamo uno dei presenti. Siamo andati sempre all'esene a dire che lui diceva perché tutti non pagano le immondizie e ha detto cara, senti che lei c'è delle guardie, lei è una striscia di terra, si fa presto a vedere tutte le case, si fa un centimento e si fa pagare. Non l'ha potuto mai fare perché si capisce bene, perché è un abuso che fa su di noi. Lui bandando le guardie, registrando tutte queste cose qua, noi come se andassimo di diritto a chiedere delle cose. Allora non l'ha mai fatto, lo sanno loro che non pagano. Anzi io dico a quelli che non pagano, fate bene di non pagare, perché c'è un lassismo enorme da parte dell'esene, capito? E questo fatto qua... Ma ora sembra che il censimento lo vogliano fare, sembra che qualcuno abbia... Ma le dico, ma sì, devono fare tutto, però devono metterlo pubblicamente, civilmente, democraticamente, affissa gli albi con i manifesti e farci conoscere a noi quali sono veramente i problemi della situazione della zona. Allora possiamo rispondere noi, perché noi vogliamo dare anche una mano se possibile. Quindi la vostra disponibilità c'è. Un altro dubbio risiede nella effettiva volontà politica di regolarizzare tutto il caos fino ad ora descritto, con il PIRT, Piano degli Interventi per il Recupero Territoriale, presentato proprio da una delle sei società immobiliari che vantano diritti di proprietà sui terreni dello schiapparo. Queste case non sono mai costruite, se si deve regolarizzare si devono abbattere per poter sistemarle diversamente. No, secondo noi abbiamo dei documenti, l'Esera ha intenzione di battere perlomeno 800 case, perché dicendo che ha fatto un PIRT, un PIRT che io l'ho sempre rinnegato e disconosciuto, perché noi qui tutti quanti non conosciamo questo PIRT che cosa contiene. Dopo, leggiamoci i giornali, si abbatteranno 800 case. E quali sono? Quali sono i criteri? Perché si batteranno? Eh, bisogna capire, cose che l'Esera non ci ha fatto mai capire. Ma i nostri intervistati si dichiarano convinti e decisi a restare e a non mollare, per sbrogliare finalmente questa matassa veramente incarbugliata. Ora di finire di prendere in gira la gente, perché qui c'è gente che abitano notte e giorno, sono venute dall'estero, sono venute qui abitare, come tutti noi. E non hanno capito che no, non andiamo via. Noi siamo stati migrati e siamo ancora migrati. Quando veniamo vogliamo andare dentro la nostra terra e facciano quello che vogliono e che noi non andiamo via. Non siamo, non siamo assolutamente del parere di abbandonare questa zona. Alla fine una proposta è stata avanzata da uno dei nostri ospiti. Forse alla fine il buon senso prevarrà? La proposta che vogliamo fare è di lasciare da parte tutti i contrasti e cercare di venirci in gondro per dare la possibilità al comune che ci amministra di ingassare i soldi. Noi di pagare, di fare il nostro dovere di cittadini e di avere i servizi.